ciao a tutti e benvenuti nel mio canale fantasia di uncinetto oggi vediamo come realizzare questo porta tessere all'uncinetto semplicissimo veloce da fare vediamo come è fatto a una tasca da una parte e altre due dall'altra quindi possiamo mettere tantissime tessere che sono sempre nei nostri portafogli per questo progetto utilizzerò il cordino one cotton della tre sfere e un uncinetto numero 4 da un ago da lana senza punta per cucire un ago dalla punta fine e del filo da pesca metterò sul portafoglio anche questa etichetta handmade per cucire un ago dalla punta fine e del filo da pesca una calamita e della colla per tessuti oppure la colla a caldo iniziamo il lavoro eseguendo una serie di catenelle fino a raggiungere una lunghezza di 27 centimetri ho eseguito 43 catenelle adesso vado a lavorare sulla seconda catenella una maglia bassa e vado a lavorare una maglia bassa per ogni catenella per tutta la riga quindi devo ottenere in tutto 42 maglie basse ok ecco qua adesso lavoro una catenella e volto il lavoro e vado a fare la stessa cosa ogni maglia che mi trovo sotto lavoro una maglia bassa ok quindi continuo lavorando una catenella girando il lavoro e procedo in questo modo fino a raggiungere un'altezza di 7 centimetri ecco qua ho lavorato 12 righe adesso dobbiamo continuare a lavorare giriamo il lavoro ma invece che lavorare 42 maglie basse dobbiamo lavorarne solamente 14 arrivo a lavorare di 14 poi vediamo ecco qua adesso non procediamo ma lavoriamo una catenella e ritroviamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa su ogni maglia che ho sottostante quindi altre riga da 14 maglie basse ecco qua quindi devo lavorare continuare a lavorare in questo modo e lavorare in tutto 28 righe due già ne ho fatte per cui altre 26 ed ecco qua fatti anche tutti i 28 giri di maglie basse da 14 maglie basse a riga ora possiamo tagliare il filo lasciamo il filo bello lungo perché ci servirà tutto per fare tutta la cucitura per evitare di fare vari tagli insomma e riattacchi in modo che è più semplice che non si sfili mai il lavoro insomma allora il borsellino dovrà essere cucito in questo modo questo dobbiamo pagare in tre qui in due e poi chiudersi in questo modo ok quindi prendete bene le misure qui diciamo in mezzo rimangono circa quattro giri in modo che dia la possibilità di chiudersi insomma ok quindi partiamo da da questo punto che visto che il filo ce l'abbiamo qui partiamo uniamo tutto questo punto quindi vediamo bene e andiamo a cucire semplicemente passando l'ago da parte a parte poi facciamo la cucitura ad esse quindi usciamo dalla parte e rientriamo sempre dallo stesso lato quindi siamo uscita da dietro e da dietro rientriamo clicchiamo di prendere le maglie a dritto ok e andiamo avanti fino a arrivare qui ok arrivati qui adesso dobbiamo passare da questa parte per farlo non voglio tagliare il filo quindi passerò in questo modo vedete qui ho delle asoline orizzontali sempre ad esse passo una volta da una parte e una volta dall'altra fino ad arrivare alla fine della riga quando sono arrivata qua giù adesso vado a unire tutta questa fascia come ho fatto da questa parte quindi vado a prendere da un lato all'altro e unisco e vado avanti quindi unita questa parte adesso dobbiamo arrivare fino a qui quindi sempre con lo stesso sistema passo tra le trame da una parte all'altra fino ad arrivare al punto desiderato ok arriviamo fino a qui adesso dobbiamo unire questo pezzetto qui per cui devo arrivare oltre ad essere arrivata qui questo all'angolo mi sposto di una maglia ok adesso vado ad unire questa parte allora praticamente prendo questo modo e anche la parte che rimane davanti poi vado a prendere questo e passo il filo proprio dentro e prendo da dietro poi da sotto mi entro e prendo anche una solina della parte davanti da unire quindi arrivo fino a qua giù ed ecco qua ben attaccato adesso pieghiamo e andiamo a cucire tutto questo fianchetto sempre sempre nello stesso modo adesso devo tornare un pochino indietro quindi faccio così e li vado in avanti prendendo tutte e tre le parti fino a qua giù ed ecco qua ed ecco qua adesso ci rimane solamente attaccare quest'ultima parte sempre nello stesso modo quindi prendiamo facciamo da una parte facciamo dall'altra facciamo dall'altra e andiamo avanti fino a qua giù ed ecco qua adesso facciamo un'ultima chiusura per rinforzare e andiamo a nascondere il filo ok è pronto ci rimane solamente da mettere la calamita e l'etichetta mi sono accorta per errore di aver cancellato il video in cui incollavo le calamite comunque ve lo faccio rivedere anche se poi ho già fatto tutto quanto il lavoro praticamente prendete una calamita staccate due pezzi una la parte con il bottone diciamo da sopra e l'altra va sotto la posizionate dove la potete attaccare potete attaccarla qui o se volete anche più giù a seconda di come vi piace di più e poi mettete diciamo un po' di colla sia sulla calamita se volete anche un pochino sul tessuto dove siete sicuri che andrete ad attaccare la posizionate così come ho fatto vedete qui e sia la parte sotto che la parte sopra la tenete diciamo ad asciugare per diverse ore potete farlo anche il giorno prima per il giorno dopo dopodiché andrete avanti a cuocire come vi faccio vedere poi nel video ora che la colla si è asciugata ancora non è diciamo non può bastare la colla non tiene bene quindi prendiamo anche il filo diciamo quello di nylon lo infiliamo su un ago abbastanza fine e andiamo a cucire semplicemente andiamo a filare da sotto e facciamo un nodino non so se si vede perché è talmente fine che non lo vedo quasi nemmeno io quindi non so se voi riuscite a vederlo comunque fate un nodino due nodini in modo che tenga bene e poi andate ad attaccare diciamo la calamita così come si attacca un bottone vedete qui ci sono le quattro fori dovete andarle a cucire non è semplice passare attraverso le trame quindi cercate magari di passare attraverso i fori delle trame cioè tra un punto e l'altro e poi prendete il foro e passate io faccio dopo una volta che sono tornata sopra prendo una maglia diciamo passo in questo modo sotto e poi passo nel foro faccio due o tre volte questo lavoro e poi passo al foro successivo ok adesso andiamo semplicemente ma ripassiamo in questo modo attraverso le trame e poi arrivare nel punto dove c'è l'altro foro e fate la stessa cosa quindi su tutti e quattro i fori fate questo giro insomma fino a cucire tutto quanto una volta cucito tutto quanto dietro andiamo a fare passiamo con l'ago dietro prendiamo facciamo un giro su una maglia e poi facciamo un nodino prendiamo il filo passiamo dentro e tiriamo magari ne facciamo due spero che riesca a farvi capire perché non è semplice lavorare in questo modo e vedere il filo comunque fate almeno due nodini e poi potete tagliare il filo ok ecco qua ora basta cucire anche l'altro il portafoglio è pronto ora rimane solamente da attaccare l'etichetta handmade ora prendiamo l'etichetta del filo da pesca ed un ago ed andiamo inserire sul portafoglio la metterò qui allora iniziamo fermando il filo quindi come sempre facciamo passare il filo che metterò doppio farò un nodino e poi un altro per fermare bene il filo ok adesso poi questi anche se non so se li vedete li andrò a nascondere e prendo l'etichetta mettiamo abbiamo detto di metterla qui per cui andiamo a passare il filo in questo modo proprio nel punto in cui vado a cucire e poi passo l'ago su due foreline che ci sono per attaccarlo e faccio passare all'altra parte adesso siccome non posso andare giù dritta perché altrimenti cucierei la tasca passo prima sul foro dell'etichetta e poi passo sul bozzellino prendendo in questo modo vado a fare la stessa cosa dall'altra parte e poi ripasso sul forellino quindi ripeto questa procedura diversi volte in modo che tenga bene e poi passo dall'altra parte nel frattempo siccome danno un po' fastidio questi due filetti dell'estremità faccio un paio di nodi ancora e poi taglio facendo attenzione a non tagliare l'altro e proseguo quindi attacco bene questa parte poi senza magari senza cucire quindi attacco bene questa parte e poi passo quindi procedo fatto un po' di volte mi sposto passando in mezzo alle trame senza quindi tagliare il filo ma mi sposto tanto passerò sotto l'etichetta e non si vederà niente poi il filo è talmente invisibile che proprio non si vede nulla e poi faccio la stessa cosa su questi due buchini facendo attenzione di metterla dritta ed ecco qua forzellino è terminato e ora possiamo metterci tutte le nostre tessere il video è terminato spero vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima ciao a tutti